Le 20.30 a Verona per la Valsa Group nel playoff per il quinto posto in cerca di punti giallo-blu per rientrare tra le quattro squadre che giocheranno le semifinali. Nonostante le difficoltà, dice Vlad Davieskiba, siamo pronti a dare battaglia. Sicuramente sarà la gara difficile, loro stanno facendo, stanno giocando pallavolo di alto livello, che per noi adesso è un periodo di difficoltà, abbiamo un po' di infortuni, non grossi, però ce l'abbiamo, ci mette un po' di difficoltà anche questo. Però, inostante questo, facciamo il massimo per battagliare contro questa squadra che, come ho detto prima, è forte, giocano bene, hanno vinto l'ultima partita contro Civitanova e ci prepariamo per una battaglia. Questo è il problema più grosso, che non riusciamo a dare continuità al nostro gioco, che richiede sempre il coach. Questo punto che non ci dà a sviluppare tutta la forza nostra che ce l'abbiamo. Bruno ha presentato per me di non morlare mai, di combattere fino all'ultimo punto, fino all'ultimo fischio dell'arbitro. E sono molto orgoglioso di essere in questa squadra con il nostro capitano, che sicuramente mi ha dato più di tutti con cui ho giocato prima. Sono molto fortunato di essere in squadra che è Bruno. E della Palla volo chiudere l'appuntamento di oggi con lo Sport su TRC. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.